Un evento organizzato da Leica e Polifoto, distributore delle macchine fotografiche del produttore tedesco per l'Italia, ci ha permesso di visitare gli stabilimenti di Solms, dove dal 1987 nascono le famose fotocamere dal bollino rosso. Accanto alla storia e alla tradizione del marchio, che di fatto ha inventato il formato 35 mm, lavorano oggi le ultime tecnologie per continuare a mantenere alto il blasone del produttore tedesco. Nello stabilimento di Solms si alternano macchine di ultima generazione per la produzione di lenti asferiche a banchi dove l'esperienza e la manualità degli operatori sono insostituibili per assemblare e testare obiettivi e corpi macchina. In questi stabilimenti nascono anche la Reflex S2 e i grossi obiettivi che ne costituiscono il corredo. Durante la visita alla fabbrica abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Jean-Jacques Carachan, Sales Area Manager Leica S2. Voici davanti il produttore Leica S2 che è un formato rivoluzionale, innovante, fabriquato a 100% da la marca Leica Camera in Allemagna. Abbiamo trovato la tradizione di Oskar Barnack, inventeur del formato 24-36 in questo apparello. Leica innove in apportando un nuovo formato per il medio formato e attorno a questo formato digitale. Leica va costruire, fabriquere, ordine delle optiche specifiche in la tradizione Leica a spheriche, a pelle, con questa qualità excepzione, con delle ouverture, per esempio, per il medio formato di 2,5mm, che è eccezione in termini di risultato. E poi, per esempio, con le capteure, con il formato innovante di Leica, mettiamo un boitier che non ha a fare con il medio formato. C'è un aspetto 24-36, è legger come un 24-36, è anche rapido, confortabile come un 24-36. Par contre, le fischi sono dei fischi di medio formato. Quindi Leica, l'idea principale è di prendere il miglioro di 35mm, leggerità, compacità, rapidità, il miglioro di il miglioro di formato, con un grande capteur e dei fischi molto lourdi, e davanti Leica va mettere questa qualità d'objectif che è importante, qualità aspheriche, apochromatiche, che fa che l'ensemble di questo prodotto ha un concept particolare e, soprattutto, un risultato eccezionale. On può dire oggi che i grandi fotografi professionisti che lavorano con questo prodotto si rivaliscono con le più grandi capteure esistenti in medio formato del mercato. Restando ai fotografi, come è stata accolta questa S2 sia dai professionisti sia dai fotografi comuni? Sì, c'è vero, c'è due grandi marchi per Leica S2, che vediamo molto bene il profilo. D'abord, ci sono gli amati che considerano questo prodotto come eccezionale e che non chiedono a guardare questo prodotto e a l'achetere. E quando gli hanno l'achetere, gli hanno trovato una altra forma di fotografia con la valeur ajoutata di Leica, principalmente nella colorimettria. L'altra valeur che l'on découvre nella clientele professionale è il renuncio di Leica. C'è l'approche di Leica. E noi vediamo questa tendanza tra il Leica M9 e il Leica S2. Un rinuncio verso il marchio professionale per la marca al pointe rouge. Questa marca al pointe rouge, Leica, ha, io penso, ha marquato di maniera tradizionale la foto nelle anni della fotografia argentina. Ma oggi abbiamo un rinuncio, e quindi, per rispondere perfettamente a vostra questione, questo rinuncio se traduisce per un enguimento dei fotografi professioni per il Leica S2. Concrètement, abbiamo la maggior parte dei grandi fotografi professioni in tutti i milioli, gli specialisti di voiture, gli portraitisti, gli fotografi pubblicitari e gli studiosi di location lavorano con la tecnologia e, io direi, il s'imbibe della cultura Leica che è una cultura di qualità, che è una cultura di fabbricazione a la mano e che è una cultura di tradizione. C'è dire che il prodotto che noi achiamo oggi ha una grande valore, non solo nel risultato dei fischi, ma anche nella perspectiva di domani.